Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Cominciamo oggi una serie di interviste ai presidenti rurali delle varie regioni per monitorare come è l'erogazione dei servizi in farmacia nelle rispettive regioni con un'attenzione particolare a quello che accade nelle farmacie rurali. E' con noi Marco Mecconi che è il presidente rurale di Federpharma Marche nonché presidente regionale di Federpharma. Dottor Mecconi intanto buongiorno e grazie di essere con noi oggi. Buongiorno a voi, grazie a voi, grazie. Allora, dottor Mecconi, io direi di cominciare da una fotografia di quello che accade nella sua regione nell'erogazione dei servizi in farmacia sia in termini di qualità dei servizi ma anche in termini di quantità. Sì, nella nostra regione siamo partiti dal primo giugno dello scorso anno, del 2023, con l'erogazione di quella che è tutta la sperimentazione della farmacia dei servizi, quindi della legge 153 del 2009. Quindi sia servizi cognitivi che front office, che anche analisi di prima istanza, quindi tutto quanto quello che provvedeva alla sperimentazione. E anche screening, fondamentale anche l'attività sullo screening. Questi servizi sono partiti in circa 260 farmacie nelle Marche, di cui circa la metà rurali. E' importante rilevare che la quantità di servizi effettuati è maggiore nelle farmacie rurali che nelle farmacie urbane. Le farmacie rurali hanno effettuato il 56% del totale dei servizi effettuati, pur avendo meno farmacie e meno ovviamente bacino d'utenza. Però questo riflette un po' anche la regione, che è molto popolata di pazienti e di persone anziane, over 75, nelle aree interne, e molto invece popolata di pazienti giovani nelle aree costiere. Quindi è abbastanza usuale che la frequenza dei servizi sia maggiore nelle aree interne e nelle aree rurali. Quali sono i servizi maggiormente efficienti? E sappiamo che voi siete considerati un'eccellenza sul fronte della vaccinazione in farmacia. Ci fa un po' il quadro? Sicuramente i servizi telemedicina hanno avuto un riscontro immediato e rapidissimo. Abbiamo effettuato oltre 15.000 prestazioni telemedicina, divise tra ECG, oltre cardiaco e oltre pressorio. Queste hanno anche dimostrato la loro efficacia perché con i dati che la nostra regione ci ha messo a disposizione abbiamo visto che sugli ECG 44 dei pazienti sottoposti a ECG in sperimentazione erano pazienti con un infarto in corso e quindi sono stati mandati al pronto soccorso nella maniera più rapida possibile. Invece per quanto riguarda gli oltre hanno dimostrato un abbattimento delle liste d'attesa regionali vicino al 20%. Quindi questi sono due indicatori fondamentali che la nostra regione ha tenuto a sottolineare. Sulle vaccinazioni ha perfettamente ragione. Siamo una regione pilota perché siamo partiti oltre che col covid e con l'antinfluenzale in cui abbiamo somministrato in questa stagione 20.000 dosi covid e 11.000 antinfluenzali ma siamo riusciti anche ad inserire l'herpes zoster, la vaccinazione per l'herpes zoster e il papilloma virus e sarà prossima quella dell'opneumococo. Quella dell'herpes particolarmente già abbiamo avuto sei mesi di vaccinazione vaccinando circa mille soggetti quindi anche qui un ottimo risultato. E per concludere dottor Mecconi quali sono invece le aree su cui state lavorando per migliorare il servizio? Sicuramente ci concentreremo sugli screening e sulla prevenzione. La prevenzione che si fa sicuramente con la vaccinazione ma anche molto con la prevenzione che è sia educazione alimentare, comportamentale o di stile di vita ma anche una prevenzione attiva. Quindi sottoporremo i pazienti che vorranno arruolarsi a degli screening sul diabete, sul profilo lipidico e anche sulla PCR. È un argomento molto importante, quello dell'antibiotico resistenza e anche in quello vorremmo mettere il nostro impegno. Grazie a Marco Mecconi per essere stato con noi. Buon proseguimento e buon lavoro. Grazie. Grazie a tutti.